Il governo di Ankara non dichiarerà mai il cessato del fuoco nel nord-est della Siria. Lo ha assicurato durante un volo di ritorno dall'Azerbaijan il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, respingendo la proposta di mediazione lanciata dagli Stati Uniti. Parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, il presidente americano Donald Trump aveva infatti annunciato la visita in Turchia del vicepresidente Mike Pence e del segretario di Stato Mike Pompeo per fare pressione su Ankara affinché dichiari il cessato del fuoco. A prendersi la scena invece sul conflitto in Siria, il presidente russo Vladimir Putin, che in un colloquio telefonico ha invitato Erdogan in Russia nei prossimi giorni. Secondo il Cremlino, i due leader hanno sottolineato la necessità di prevenire un conflitto tra unità turche e siriane nella Siria settentrionale, dove Ankara ha lanciato l'offensiva militare.